Lo scopo del progetto Non bruciamo l'albero vascolare è quello di informare correttamente i medici, specialisti e non di come gestire nel modo più adeguato il paziente fumatore. E' difficile che chi fuma smetta di fumare e questo ovviamente è il nostro compito principale ma buona parte dei pazienti non riesce a smettere. Allora in questo caso dovremmo aiutarlo a fumare nel migliore dei modi cioè ridurre al massimo quelli che sono i rischi legati al fumo di sigaretta. Oggi è possibile in vari modi, ci si può rivolgere ai centri per la lotta contro il fumo e quindi essere seguiti ed aiutati in questo senso però si possono usare anche dei nuovi prodotti cosiddetti a tabacco riscaldato dove si ha l'utilizzo solamente della nicotina ma vengono eliminati completamente tutti gli altri prodotti legati alla combustione della sigaretta che nel 90% dei casi sono quelli che provocano le patologie più importanti. Quindi sensibilizzare il medico a conoscere la patologia e a gestirla nel modo migliore in modo che possa trasferire le informazioni al proprio paziente e quindi lavorare capillarmente sul territorio.